Elisa Longoborghini, campione d'Italia. Ieri, in quel di Breganze, finalmente anche l'Ornavassese della Trek Segafredo, ieri del corpo delle Fiamme Oro, Polizia di Stato, ha potuto alzare le braccia in una stagione che l'ha vista grande protagonista. Elisa è con noi, in collegamento da casa sua, da Ornavasso. Ciao Elisa, grazie. Direi un campionato italiano vinto da te alla grande, ma anche con una tattica di gara perfetta della squadra delle Fiamme Oro. Avete veramente fatto la corsa e la conseguenza è stata appunto questa grande vittoria tua. Ciao a tutti, ciao Gianluca. Sì, il tricolore è stato vinto con una tattica perfetta, sono contentissima del successo di ieri. Le mie compagne hanno lavorato benissimo, sapevamo che dovevamo tenere molto alto il ritmo sulla salita che c'era ogni giro per cercare di evitare di far andare via una fuga e poi dopo attaccare nel finale. Così è stato e è andato tutto a buon fine. Ecco Elisa, parliamo un po' della stagione, perché tu dopo la ripartenza, dopo questo strano 2020, questa stagione iniziata praticamente a luglio, sei stata comunque sempre grande protagonista anche ai mondiali e ai campionati europei, sei salita sul podio sia a Plouet che a Imola. Voss, Van Vleuten, Van der Breggen, ma se vogliamo anche Amy Peter, Chantal Black, insomma le olandesi le hai sempre comunque avute in mezzo, hanno vinto tanto anche loro, ma questo dream team è davvero imbattibile? Sì, il dream team olandese, come dici tu, è veramente un team molto forte, però credo che non sia così imbattibile. Magari dovremmo aspettare qualche anno perché maturino le ragazze giovani che in questo momento stanno crescendo un po' per essere competitive al 100%, però abbiamo dimostrato lo stesso di essere sempre lì. A Imola comunque sono arrivate prime e seconde due olandesi, ma appena dietro c'era l'Italia. Ecco Elisa, poniamo un attimo l'accento su di te, perché a Imola, dopo la gara, facendo due parole con Giorgia Bronzini, che è il tuo direttore sportivo alla Trek Segafredo, ma è stata anche due volte campionessa del mondo su strada. Abbiamo fatto un ragionamento e lei ci ha detto le testuali parole che mi sono segnato e che dunque vado a rileggere. Elisa ha avuto una maturazione ulteriore a livello mentale e anche nel metodo di allenamento. Tu ti ritrovi in queste parole di Giorgia? Giorgia Bronzini ha ragione, credo che questo 2020 mi abbia anche fatto maturare a livello mentale. Sono più forte sia fisicamente che come ha detto lei mentalmente e sono anche più serena. Non sento poi così tanto la pressione delle corse e questo gioca a mio favore perché mi fa andare alle gare con più leggerezza e quindi con meno paura di sbagliare. Ecco, intanto ci auguriamo, ci uniamo anche noi all'augurio per Nonna Mira. Dopo la gara hai fatto un in bocca al lupo a lei di pronta guarigione, pronta guarigione anche da parte nostra. Un abbraccio forte a Nonna Mira. Non è finita la stagione perché con il nuovo tricolore che sappiamo quanto adoro indossare dovrai andare a correre in Spagna. Con questa domanda ti salutiamo, ti ringraziamo e ti facciamo ancora i complimenti per quanto hai fatto ieri a Breganza e anche in tutta la stagione. Fortunatamente potrò correre ancora questa stagione, potrò indossare il tricolore perché correrò dal 6 all'8 in Spagna, a Madrid. E quindi sì, sarà una bella emozione poter correre il tricolore con il tricolore le ultime corse della stagione. Grazie.